e saluti ragazzi benvenuti al nostro nuovo video sono sempre io il vostro giurassic 4 10 e oggi siamo qua nuovamente su tube tycoon il simulatore youtube e volevo far vedere che siamo arrivati a 1103 iscritti perché sono andato avanti un pochino così per non lasci perciò praticamente per continuare con la storia così e subito una cosa abbiamo abbiamo quattro punti da spendere mamma mia e vorrei spendere un attimo o per la cucina oppure per sbloccare i single player games però non saprei se perché prendere la cucina vuol dire che andiamo praticamente nella parte movie qua andiamo esatto andiamo qua e invece con il corso dei giochi possiamo comprare nuovi giochi appunto però se compriamo il corso dei giochi c'è un'altra cosa figa perché possiamo dopo avere questo che ci sblocca praticamente i tre slot qua quindi direi di andare un attimo sui giochi secondo me anzi no però se noi andiamo sui giochi vuol dire che anche questo qua bisogna comprare esatto bisogna comprare le v bedrooms perché è abbastanza figo è tipo lo faccio vedere compriamo quindi quello di cucina però anzi no compriamo single player games ok e compriamo questo che sono questo qua ci sblocca le cose questo qua ci fa una cosa figa se noi adesso andiamo qua e andiamo v bedroom appunto noi gli diamo i big money ed uscita dei potenziamenti questo bellissimo tizio ci dà dei potenziamenti per facilitare la nostra crescita e arrivare al nostro obiettivo finale arrivare a un milione quindi allora subito iniziamo facciamo tanto games ovviamente facciamo un daily vlog random così perché ci sta lo chiamiamo lo chiamiamo u.u la faccina quella così ecco e basta e ok iniziano già le prime views u.u la faccina quella con gli occhi così sta andando abbastanza bene perché arriva ai 2000 2000 views potrebbe arrivare al 3000 views potrebbe arrivare al 3 mia 3000 views arrivate perfetto abbiamo avuto meno iscritti poi più iscritti bellissimo ok e nient'altro ok quindi andiamo a dormire intanto come vi posso far vedere i soldi iniziano a salire siamo a 1904 dollari sì però però piano piano iniziano a salire i big money allora qua mi sono indicato che c'era anche il tag va bene facciamo anche il tag allora basic c'è possiamo farlo perfetto poi registriamo anche il games che il games dico di registrarlo sempre perché vedete se noi registriamo solo uno la barra qua si riempie sempre tutte le volte quindi basta registrare solo uno e mamma mia e bisogna ricordarsi quando abbiamo 50 dollari di andare dal tizio là e spendere i nostri money 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 proprio così li tiriamo in faccia a lui così lui ci dà dei potenziamenti fighi allora bad luck va bene mi fa piacere che perdo i secondi random che cosa elegante e facciamo il giochino simpaticissimo e carino 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 intanto siamo a meno 66 quindi come vi stavo dicendo prima ormai i big money stanno salendo quindi siamo troppo rilassati e anche ok floppy bird non fa troppe views no però vedete i commenti non li leggerò da questo momento in poi non li leggerò più perché tanto sono sempre gli stessi e tipo inutili già quindi non leggerò ok più subs perfetto all'obiettivo di questo episodio è arrivare a 2000 almeno quindi a 2k e forse già possiamo fare forse sì forse no intanto abbiamo preso un altro punto perché ragazzi ragazzi ho scoperto che la barra qua gialla sotto che si riempie guardate dove che sono possiamo fare qualcosa questo facciamolo y punto y ok perché la barra qua sotto la barra qua sotto gialla che si riempie vediamo se vediamo ecco vedete la barretta qua gialla la barretta qua gialla è il punto cioè praticamente sono i punti qua quando arriva piena quando la barra si riempie tutta ci dà un punto e quindi qua ce ne servono tre per sbloccare questo che è il nostro punto principale che bisogna arrivare che tanto quello lì sta facendo un sacco di views quindi boh basic vlog è un po' bassino quale interesse ma va bene lo facciamo lo stesso y punto y sta facendo tante views può sicuramente arriva a 2000 a 3000 forse no a 3000 probabilmente no infatti no non ci arriva però 2000 sicuri sì ok poi gli altri vabbè faranno massimo massimo 1000 views non di più perché boh ok e ok 1000 e questo qua c'è lo 500 oddio va bene raccomandazione mamma mia e siamo a meno 53 ormai proprio stanno salendo proprio i soldi ok games facciamo sempre questo facciamo daily vlog che l'abbiamo appena fatto ma possiamo fare di nuovo quindi facciamo facciamo faccina felice sì ok e qua vedete qua si sta già abbassando troppo l'interesse però a noi non interessa tanto poi dopo compriamo il quello però appunto sbloccare i punti quindi va più che bene perfetto vai che stanno iniziato a salire guardate tipo i vlog quelli con il nome cioè guardate quanto tipo quante views che fanno quanti soldi soprattutto guardate i soldi quanto salgono e i commenti vabbè chi se ne frega dei commenti in realtà non ci interessano però fanno 2500 views quasi quindi è abbastanza buono dormiamo per favore perfetto e appena ok nuovo tag perfetto andiamo subito a fare il tag 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 perfetto vai poi andiamo qua facciamo basic vlog facciamo questo facciamo il vlog normale non ho perché è troppo basso ok casino totale ok ma tranquilli tranquilli tutto va benissimo ok questo gol facciamo ancora puoi dire appena abbiamo dei soldi di spenderli perché qua non posso vedere perché c'è ancora quel gioco quando abbiamo abbastanza soldi possiamo comprare i single player games che di solito ti fanno fare più views perché appunto essendo giochi che costano di più ti fanno fare più views lo so è un ragionamento stupido ma è così no bad luck no per te bad luck almeno mister bionico il creatore ci da 159 iscritti e un tizio random ci da 85 iscritti ok meno male che da un po' che non si va a vedere guardate proprio questa persona orrida anzi non possiamo vederlo ok meno male che non si fa vedere quella bruttissima persona voi sapete di chi sto parlando e tra l'altro ho scoperto una cosa esiste davvero ho cercato su youtube cioccoletti mili che esiste davvero ed è una cosa abbastanza bruttina perché l'altra volta ho detto insultarla non fate insultare su tutti i video mamma mia non fatelo e tra l'altro niente basta non insultate nessuno su tutti i video va bene ok ok siamo qua qua possiamo fare basic vlog possiamo farlo lo facciamo subito daily vlog facciamolo lo chiamiamo o.o ok io farò sempre tutte le faccine solo faccine adesso va bene perché non so cosa fare come non so come chiamarlo quindi farò le faccine queste qua carine e simpatiche yeh ok allora l'editing è molto lento come si può sol dire e guardate la faccina quante views che fa cioè 3000 sicure qua forse 4000 5000 oddio 5000 views 5000 views raccomandazione eh ti voglio vedere e abbiamo raggiunto i 2k mamma mia troppo bravi abbiamo raggiunto i 2k allora con 2000 iscritti cosa possiamo fare dormiamo ok intanto i soldi sono ancora meno 33 quindi stiamo avvicinando ad averne positivamente quindi facciamo speciale speciale 2k proprio 2k così da esatto speciale 2k vediamo quante views fra lo speciale 2k cosa cosa facciamo facciamo il game facciamo ancora un episodio di quello poi lo terminiamo poi se abbiamo i soldi compriamo l'altro altrimenti non facciamo più games per un attimo finché non abbiamo un nuovo soldi e poi ah 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 bello così ok gli unicorni epici sta avendo un casino di geos ma lo speciale 2k lo può superare tranquillamente perché sì 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 lo sta guarda lo sta superando tranquillamente guarda eh il banco me lo supera tranquillamente esatto naruchak meno 220 iscritti ah va bene ok va più che bene ok dormiamo please ok meno no scherzo siamo a 24 dollari siamo positivi finalmente adesso appena abbiamo 50 andiamo subito qua da questo tizio vedete che lui vuole 50 dollari e noi ci andiamo tranquillamente qua facciamo l'ultimo episodio di questo sì poi facciamo daily vlog facciamo eh 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 grazie a quelli quelli ok facciamo grazie a quelli che mi tolgono di scritta altro gra scritto scritto maiusco zia piccolo perché boh perché mi si è di di schiacciato lo di ah lo shift quindi ho scritto piccolo però ok tanto chi se ne frega proprio ok grazie a quelli che hanno tolto gli iscritti e ce ne avevano abbastanza views floppy bird una merda perché tante le ottenete i giochi quindi chi se ne frega se ne fanno una merda 4000 views perfetto e vediamo bam 73 possiamo andare dal tizio? possiamo seriamente andare dal tizio? oh il tizio che ci ha tolto gli iscritti e non ce li ha dati? bello ok andiamo dal tizio shoppiamo e guardate qua vedete ci sono le pozioni di minecraft bellissime ovviamente e eh qua ci possiamo scegliere le cose io direi le altre per il momento non ci servono proprio per niente essence of fame invece è abbastanza utile perché qua power of luck eh praticamente ci dà ci dà ci dà ci devo pensare un attimo lo so ma ci devo pensare luck ci dà più probabilità di avere raccomandazioni mentre questo ci dà meno possibilità di prendere raccomandazioni ma quando ce le danno ci danno più iscritti e però ce ne possono togliere anche di più quindi direi power of luck che ci danno più possibilità di avere raccomandazioni perché per il momento tante raccomandazioni ci servono e anche se ce ne danno pochi iscritti vabbè intanto però ci danno tanto raccomandazioni quindi già tante raccomandazioni è bello e la cosa più bella è che ora accendiamo un nuovo quadratice ci vuole 100 soldi mamma mia proprio 100 soldi e facciamo daily vlog ah non possiamo più farlo perché abbiamo fatto i troppi che bello basic vlog possiamo farlo perché è una vita che non lo facciamo e facciamo un nuovo games no anzi no scherzo non facciamo un nuovo games perché altrimenti qual tag c'è esatto c'era il tag due tag addirittura in effetti dovrei guardarle quando mi arrivano le email qua in acqua quando mi arrivano le cose qua dovrei guardare non fare aha tanto vabbè chi se ne frega dovrei guardarle ok my perfect impression my perfect impression mamma mia proprio la fantasia nel fare i tag tutti uguali mamma mia proprio va bene comunque 5000 views ce l'abbiamo quello sotto quello sotto 3000 solo meno perché va bene e 5000 views aveva crazy cookies ok abbiamo 141 soldi il tizio me lo vende no ok e possiamo iniziare un nuovo gioco vediamo che giochi ci sono su single player single player sono questi qua gratuiti ma vabbè noi vogliamo quelli che costano tanto e quello che possiamo permetterci costa di più grand theft venico non possiamo però possiamo fare end fantasy ma voglio dire di fare un gioco bellissimo full life ovviamente a riferimento al dark life mamma mia un gioco bellissimo al life dovete giocare se non avete giocato al life giocate cioè è tipo troppo bello mamma mia non potete non aver giocato al life tutti anche se no niente non vi spoilerò nulla non vi spoilerò nulla non vi spoilerò nulla e fa poche no non può far poche views cioè al life non mi può far poche views cioè no 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 proprio no perché devo fare per forza tante views non poche va bene sono quasi 3000 iscritti però già questa cosa è abbastanza carina e abbiamo un nuovo punto quanti punti abbiamo uno con quello che ci da nuovo due quindi bisogna aspettare ancora un attimo per averne tre e per poter prendere quello va bene quindi non è troppo difficile ok ora facciamo un altro episodio di full life ovviamente movie facciamo daily vlog che si chiamerà aha road to 3k esatto facciamo road to 3k e basic vlog ovviamente tanto per e spero di avere qualche raccomandazione potente che ci faccia arrivare con a 3k se noi stiamo facciamo road to 3k faccio arrivare a 3k direttamente cioè no guardate i cosi sull'ukulele interessano e la strada per i 3k interessa quindi boh ci sta va bene ok il letter ci da bad luck bello bello bellissimo ok qua intanto il tizio ok adesso facciamo l'altra cosa power of amount perché vorrei avere meno come posso dire cioè in realtà la cosa di prima mi sa che non ha funzionato perché io avevo dato più possibilità di prendere più invece si fa meno meno di seguito proprio così tranquillamente quindi mi sa che non ha funzionato totalmente però però va bene ok games full life vai full life ok poi daily vlog sto scherzando facciamo un tag no non c'è ma mica in realtà questo fa ah no è arrivato prima ma l'ho già fatto ok basic vlog allora non possiamo farlo facciamo solo un episodio di full life allora e basta perché non vorrei perché appunto se voi guardate tipo qua e qua se noi adesso lo facciamo sicuramente facciamo meno viaggio di questo sicuramente e quindi no perché su youtube bisogna arrivare a un milione di iscritti e big money proprio bisogna addirittura arrivare a un milione e fare baggare il contatore dei soldi perché esatto il contatore dei soldi se si supera tipo il milione di dollari tipo si bagga va tutto sugli altri numeri un casino quindi beautiful e noi dobbiamo arrivarci ok siamo a meno 5 dollari non è male non è male avere meno 5 dollari devo dire che è un'emozione da provare avere meno 5 dollari abbastanza figa si ah daily vlog facciamo cosa ehm ho pochi soldi ho pochi soldi qualcuno me li regala tra l'altro detto all'italianissimo pochi soldi qualcuno me li give dettaglio italianissimo perché sarebbe g-e e con una b però però va bene noi siamo molto italianosi quindi lo scriviamo male ok poi vabbè non possiamo farlo perché sta già pubblicando gli altri video quindi non possiamo farne in altri ovviamente ok questo qua arriva a 5.000 tranquillamente questo a 3.000 esatto questo a 2.500 no scherzo perché ce ne ha sempre meno perché ce ne hanno sempre meno iscritti no ce ne devo andare di più qua invece 150 ok molto buono ok e qua intanto no non possiamo ancora sbloccarlo però quasi però quasi ok qua abbiamo già fatto? no abbiamo ancora fatto il video di full life facciamo subito il video di full life ce voglio dire chi è che non fa il video di full life ora subito altrimenti mamma mia proprio gli iscritti che se ne vanno via cioè non lo so basta mamma mia full life mezza no vita piena vita piena in realtà il gioco si chiama mezza vita ok una cosa a consenso essendo da questo gioco bellissimo storpi i nomi perché altrimenti ah copyright mamma mia mamma mia e basta dove finisce? ok probabilmente non avete capito nulla di quello che ho detto ma anche se non so poco caso che facciamo l'ultimo video di oggi poi terminiamo qua all'epiccioglio perché è già un po' tanto che sta durando in realtà la nostra è più corta dagli altri ma vabbè vabbè perché già perché ho delle cose da fare come ad esempio stabilizzare il pack che è uscito ieri perché avete visto che mamma mia proprio il caos devo stabilizzarlo e metterlo anche online così voi potete tranquillamente scaricarlo perché ve lo so che lo volete sicuramente c'è qualcuno che lo vuole ok tag ma comunque da JurassicCon10 è tutto vi ricordi di mettere un bel mi piace se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo nel prossimo episodio di Tube Tycoon YouTube Simulator quindi ciao a tutti